Benvenuti al meteo di Telenuova, queste le previsioni del tempo per domani, mercoledì 17 febbraio. Pioggia e neve al nord-est, in Lombardia qualche temporale su Toscana e Sardegna, nel pomeriggio precipitazioni solo sull'arco alpino, Friuli-Venezia-Aggiore e Piemonte. Tempo più asciutto e soleggiato altrove. Ora la campagna, ancora temperature elevate per il periodo, grazie allo scirocco, che spingerà masse d'aria calda di origine africana. Il tempo sarà discreto, con cielo parzialmente nuvolosa. Temperatura in aumento nei valori massimi, si sfioreranno addirittura i 20 gradi. Venti moderati da sud, mare molto mosso. Grazie a tutti.